Mi ha cacciato di casa, aiutami, ti prego. Ti ha cacciato di casa? Siamo a Napoli, c'è un ragazzino che dorme per strada da due giorni e nessuno gli dà una mano. Poi dicono che i napoletani hanno il cuore buono, sta là, riprendilo, sta là, vado là, questo è proprio piccirillo. Bimbo, ma che è successo? Mi ha cacciato di casa, aiutami, ti prego. Ti ha cacciato di casa? Bimbo, qualunque cosa tu abbia fatto, tua mamma non doveva facciarti di casa, non sei mica. Io me ti porto a casa mia, dormi con mio figlio in cameretta e domani ti chiamiamo il tuo genitore. Va bene, vieni con me, togli questa cosa, togli, 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 togli. Vieni con me, togli, 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 togli.